Ha parlato di PIL, manovra ma anche del caos del Movimento 5 Stelle invitando i grillini a non usare le Olimpiadi per risolvere le faide interne. Così il Premier Matteo Renzi è intervenuto a 360 gradi all'inaugurazione della Fiera del Levante a Bari. Noi, sottolinea, abbiamo bisogno di dire e di ridire che la forza e la grandezza dell'Italia è quella di un paese che di fronte alle difficoltà tira fuori il meglio e non rinuncia ai propri ideali. Renzi ricorda le tragedie dello scontro tra i treni di Andria e del sisma in Italia centrale definendola quella appena trascorsa un'estate difficile. Il Premier ha ribadito la situazione devastante di un'Italia il cui PIL al sud come al nord, se è vero che sta ripartendo è vero anche che lo sta facendo molto a rilento. Non minore l'attenzione che hanno ricevuto nel suo discorso gli sviluppi degli eventi successivi alla tragedia dei treni dello scorso 12 luglio sulla tratta Andria Corato e che ha provocato 23 vittime. Anche dicendo grazie a chi ha cercato di ridurre il danno. Lasciatemi dire che la professionalità dei soccorsi non soltanto nel terremoto ma anche nell'intervento in Puglia è una professionalità della quale a nome del Governo della Repubblica vorrei rendere merito a tutti i volontari, alla protezione civile, alle forze dell'ordine, alle forze armate e in particolar modo ai vigili del fuoco di questo Paese. Ieri, ha dichiarato il Premier, ho dato in carico di liberare i primi 100 milioni dal fondo della Presidenza per darli al Dipartimento dei Vigili del Fuoco per portare all'avanguardia i mezzi con cui lavorano. Renzi ha poi ringraziato pubblicamente per la loro professionalità a nome del Governo tutte le forze, anche volontarie, che hanno permesso i soccorsi sia in occasione dello scontro ferroviario ad Andria sia in occasione del sisma in Italia centrale. Non è mancata la stoccata al Movimento 5 Stelle accusando i suoi rappresentanti di usare le Olimpiadi come pretesto per porre il rimedio alle faide interne. Nel solco di un'edizione della campionaria barese votata al Panorama Internazionale, Renzi ha poi proseguito nel suo discorso definendo Bari città dell'incontro e del dialogo e ha rinnovato l'impegno di Governo e cittadini a costruire i presupposti necessari affinché le nuove generazioni possano sviluppare uno sguardo globale interconnesso sui fatti sociali e politici del proprio Paese nell'ottica di diventare cittadini attenti e attivi. Se noi non educhiamo ad avere uno sguardo alto, un orizzonte profondo, noi avremo i nostri ragazzi sempre interconnessi con il telefonino, sempre capaci di capire cosa succede nel mondo, ma talvolta non saremo capaci di dare loro una classe politica che sia davvero in condizioni di raccontare qual è l'orizzonte, la visione, il grande sogno per il nostro Paese e per le nostre città.